Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu Allora, ho una comunicazione per tutti voi quindi sia per gli iscritti del canale YouTube Andrea Mereu sia per i sostenitori della pagina Facebook Andrea Mereu Ragazzi, per le prossime due settimane purtroppo dovrete fare a meno di me Perché? Perché appunto vado in vacanza stasera a parto vado in Sardegna due settimane e sono assolutamente sicuro del fatto che non avrò una connessione wifi che magari potrei sfruttare eventualmente per caricare i video fare le live come ho sempre fatto mi è sembrato giusto fare questo video messaggio insomma dedicato a voi proprio per questo motivo perché magari non vedendo nessun mio intervento potevate pensare, non lo so, cavolo, cosa è successo Andrea? È morto? o addirittura potevate pensare che non caricassi più video insomma per motivi X assolutamente niente di tutto questo solamente sono in vacanza in vacanza al momento sono consapevole che non avrò una connessione wifi e quindi mi è sembrato giusto mandarvi questo video messaggio proprio per questo motivo io ovviamente fra due settimane tornerò torneranno i soliti e classici contenuti video quindi interventi sul Cagliari, sul calciomercato del Cagliari sul calciomercato di Serie A, esteri e quant'altro invito comunque però a tutti coloro che non avessero ancora messo mi piace la pagina Facebook di farlo perché magari ogni tanto condividerò un post un pensiero, un link, un qualcosa che riguardi magari il Cagliari o qualsiasi altro tipo di argomento lì sicuramente qualcosa andrò a condividere in queste due settimane insomma ragazzi non scappate rimanete lì perché fra due settimane torneremo torneremo assolutamente con i soliti contenuti che ormai conoscete perfettamente ragazzi io vi mando un forte abbraccio un forte saluto vi auguro una buona estate ovviamente ci vediamo presto ciao 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 ciao